Non solo le difficoltà legate al caro Gasoglio che ha costretto i pescarecci a tenere giù gli ormeggi, ma al porto di Giulianovo le problematiche si raddoppiano dopo la realizzazione del nuovo braccio nord, causa dell'insabbiamento nei pressi dell'imboccatura. È costante, col mare in pop che ci sono le onde alte, quando arrivi qua poca acqua che fa la barca punta, c'è possibilità di ribaldamento, di intraversamento, perché una volta che la barca tocca se ne va in balita delle onde, non governa più, quindi già siamo scarichi alleggeriti perché se no non entriamo. E quindi la barca gioca, fa come una signorina, quindi è difficile mantenerla entrando in queste condizioni. Al dibattito organizzato stamattina presso il molo nord dal Partito Democratico presenti le associazioni di categoria come il Flag Costa Blu. Il presidente Nino Bertoni chiede di mettere da parte le beghe politiche e di dare risposte concrete. Noi abbiamo bisogno di una politica che sia attiva, che sia costruttiva, che risolva effettivamente i problemi che ci sono, non solo a livello locale ma a livello provinciale e nazionale. C'è ancora tempo per rimediare a queste carenze? Tutto è risolvibile, basta volerlo, basta sedersi intorno al tavolo, discutere in maniera civile e soprattutto costruttiva e cercare di risolvere tutti i problemi che ci sono. Il porto di Giulianova, secondo il consigliere regionale Dino Pepe, rischia di perdere circa un milione di euro per le infrastrutture necessarie. La deadline prevede la realizzazione entro il 30 settembre di almeno il 50% degli investimenti programmati dai servizi igienici alle torri faro. Oggi noi presentiamo insieme alla comunità della pesca di Giulianova e del porto di Giulianova un'interpellanza al governatore Massilio per sapere i tempi e il cronoprogramma di realizzazione di questi interventi. Grazie. 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 Grazie.